88, 1 seconda Azione! Il tuo film è un film sovversivo Pier, non esagerare, dai! Io e Giovanni siamo sempre stati disegni abbiamo sempre parlato di tutto di tutto tranne che di noi due voglio lasciare Giovanni ma non ne sono capace, non ci riesco ne mangio di tutto Oh come le bali non si nei giorni di perdita Questa è una scena in cui parlate di politica Ma chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore Questa scena, così com'è, non si può assolutamente girare Devi andare da Netflix E lo solmogliano suverli film I nostri prodotti sono visti in 190 paesi Purtroppo la sua sceneggiatura è uno slow burn che non esplode Puff! Io sono così faticoso come dice mamma Ma insomma diciamo che Quintana ha sempre la sensazione di camminare su una corpo tese Ti racconti solo quando stai male e cancelli sempre tutte le cose belle che sei Di che cosa hai paura? Guarda che non sei un lento se sei felice Non sei bebole se sei affricoso Ehi! Ehi!